Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo video su BB Racing 2 Allora, è arrivato il momento Siamo per arrivare al livello 9, cioè quasi a livello 10 Siamo a livello più avanzato dell'ultima volta Dell'ultima volta, di due anni fa Quindi ho aspettato tantissimo per arrivare fino a qua E ci sono riusciti Mi so se riuscire a livello, anche a livello 10 Già così Ok No 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 Oh my god No, non ho fatto esplodere, che ti fa? Vai E no, dai, ma tutto a me succede Adesso metto modalità speed run Non ha preso niente, non vale No 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 che stupido che scegli dai vai 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 due fatti chiude vai ah no sei eh vabbè de l'osale non ciao vai vai no no primo ho ancora una stella ticchi la vedo mi vedo mi vedo oh sfida ultimamente ok io non so vabbè assolutamente qui qui mi vedo mi vedo mi sono bravo oh qui mi vedo qui mi vedo mi vedo mi vedo no no si no per io per magari non ultimo però quinto no è impossibile è impossibile è impossibile è impossibile è impossibile no no ok adesso 4 magari 2 ok adesso 4 magari 2 3 4 ok 4 ok 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 19 20 19 19 19 19 19 20 19 20 21 20 21 21 22 23 Della spigennata Capitato no Ok Ciao ciao Ho fatto un po' Ho fatto un po' 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 Comunque Sicuramente siamo a livello più avanzato Un po' 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 di più però e un po' di più Sì c'è un'altra cosa non ma è possibile che non posso fare la classica e poi volete e vedete che voglio a le watt che sono guardate hai visto? Noe Grazie Noe Non inizio Ma dai Secondo, però non vale Scemi Dai Do fiducia Non è giusto Non è troppo scherzo Non è giusto Devo fare una po' a tempo Adesso adatto con questo Vediamo come va Ah non è a tempo Quindi devo guardare C'è un po' a tempo Vedete Ma dai Ma dai Ma dai Ma dai Oh Ma dai Ma non vale Adesso Adesso tutto Sembra Stupido Stupido Adesso Lo uccido Ciao Adesso 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 no 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 non ci credo l'hai lasciata lì ma grazie invece ti faccio male non ci credo non ci credo ciao ciao no dai no ciao ciao come di oro ma questo è questo no no vai non ci credo non ci credo non ci credo ma non ci credo l'ho fatto una cosa l'arrivo persino prima forse e quella era la cosa da good c'erano tre razzi e ora è una cosa ok basta 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 anche se che non ci credo se no veng veng ciao ciao no no bravo, io odio a sbanni da sbanni e ma dai oggi sono io, ciao ci sono i miei ma dai no ci sono i miei pioggia va, ci sono i miei sono i miei sono i miei sono i miei come si sente? tezzo come cavolo ho fatto? ho fatto di nuovo la cosa del gurt e vabbè ma sono un gurt incredibile che dai 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 ciao no dai 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 non mi zanno dai noi non mi zanno cosa no non mi zanno la cosa lei non mi zanno da ho molto presentimento ah lo senti No, perché non sapevo semplice, ecco questo, ciao, 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 no, adesso modalità super, modalità hyper, ma com'è il cavolo, attenzione, ma com'è il cavolo fatto, senti qua, ma che fatto, mamma mia, ok, anzi, concludere qua, anzi, concluderò qua, vabbè ragazzi, per questo video a tutti, ci vediamo in un prossimo video, sotto Epico, ciao, ciao